Una devozione intramontabile quella legata a San Paterniano, patrono della città di Fano e dell'intera diocesi, che ogni anno attira tantissimi fedeli. Venerdì 10 luglio scorso è stato invitato a presiedere la solenne liturgia eucaristica il neocardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona Osimo, che passò otto anni della sua giovinezza a studiare proprio nel seminario fanese. Di fronte a una basilica gremita, alla presenza di autorità civili e militari, il cardinal Menichelli ha chiesto al patrono una particolare intercessione per quanti hanno responsabilità pubblica, volendo quasi estendere quanto espresso dallo stesso Vescovo Armando, il quale, nel saluto iniziale, ha invocato una trasformazione missionaria della Chiesa affinché essa possa rispondere al suo inesauribile desiderio di offrire misericordia. Sotto lo sguardo di colui che ha segnato da secoli la vita di questa Chiesa diocesana, ci domandiamo chi è San Paterniano, cosa ci ha donato e cosa oggi chiede, si è interrogato il cardinal Menichelli, perché credo che dobbiamo tutti fare una sorta di inversione di cultura spirituale, è infatti molto facile ricorrere ai santi patroni perché ci accompagnino e ci guidino, ma è molto più difficile diventare loro imitatori. Dobbiamo essere capaci di attualizzare quella testimonianza di allora, incarnandola nel tempo che viviamo. Così l'Arcivescovo di Ancona ha aperto la sua melia rivolgendosi ai fedeli in modo chiaro e diretto, scuotendo quel torpore spirituale che talvolta accompagna le feste patronali, poi, riflettendo sulla figura di San Paterniano, ha proseguito dicendo senza cadere in un'eccessiva analisi che partorisce pessimismi e angosce, dobbiamo comunque pensare alla nostra attualità religiosa e sociale e chiederci cosa direbbe al suo popolo il nostro patrono. Ne è seguita un'analisi ad ampio spettro della realtà contemporanea per la quale il cardinale Edoardo Menichelli ha impiegato parole estremamente evocative, senza risparmiare affondi sulla questione etica. Credo inoltre che sia più urgente la sapienza di Dio per il giudizio etico sul vivere di oggi. C'è una coscienza etica sociale che coniuga il bene e il male sul tornaconto, sul piacere e sulla benevolenza della legge umana, sull'idea di libertà intesa come autonomia. La libertà è invece consapevolezza della costruzione responsabile del bene comune, del quale ognuno è coefficiente, attivo e indispensabile. La libertà è da intendersi come adesione alla regola eterna e immutabile di Dio, come affidamento alla sua misericordia. Ponendo al centro di tutto l'agire del cristiano la parola, Monsignor Menichelli ha voluto infine ribadire con forza un altro importante concetto. Il Vangelo non è mortificante, ha detto rivolgendosi al presbiterio, per poi allargare l'invito al resto dell'assemblea. Smettiamo dunque di predicare un Vangelo negativo, il non fare, ma annunciamo un Vangelo libero, gaudioso, esaltante, a servizio dell'umanità. Sì, perché il Vangelo non è per il cattolico, ma per l'umanità intera, perché Gesù Cristo è morto e risorto per tutti.